buongiorno a tutti io sono red lovey jenna e come vedete ho riniziato la versione balloncino nano e nuovi amici ovvero toy poodle e new friends e devo dire che ho smesso di giocare con la golden definitivamente perché i cani che avevo non mi vincevano le gare un'altra volta e beh che dire e che in poche parole non mi trovo neanche niente cioè né occhiali da sole niente non mi trovavano niente rose niente cioè avevo 3.000 punte non mi avevano ancora trovato né rose né occhiali e nei collari di perline quelli che di solito in genere si trovano e quindi ho deciso di provare con la balloncino quindi ora proviamo intanto vi posso far vedere se andiamo verso il basso la lista di amici questa sono io questo è il mio codice amico mi raccomando chiedetemi l'amicizia infatti come vedete ora sono online poi possiamo vedere vabbè luca un mio amico dopo giuseppe mi amare due fedele docs camilla e marty la mia adorata marty sarà il vecchio nintendo di la mia adorata marty sarà il vecchio nintendo di maria e maria e manu chris marty alice frank lucia carolina michael 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 la nuova sarà che ha comprato un nuovo nintendo shanty francesca lui luigi thomas e questi che mi devono ancora registrare ricordatevi quindi il mio codice 24 49 54 0 6 0 9 3 4 bene dopo questi due minuti di introduzione possiamo finalmente vedere la mia versione di nintendo più che se versione toy poodle l'ho rinchiata da poco ho appena finito di dare i nomi insegnare i tre comandi e questa qui e lei è fiona come possiamo vedere come si vede bene questa telecamera è normale nessun nessun ha pulito pomblevo scorgi come possiamo vedere i comandi ha imparato vabbè i primi tre seduta ops ho sbagliato insegnare i comandi vabbè pav 2 dopo li risistemerò anzi mi ero dimenticata di farvi vedere come vedete 26 26 appena preso una doccia che adoro scoprire il mondo circostante e gare nessuna appena presa già poi segnalo su fuori casa ho 620 punti conto passi zero e volevo farvi dare in questa versione forse avete già visto da sala ma volevo farvi vedere intanto che accessori ci sono da colletta e lei si chiama teresa allora abbiamo collare rosso e bianco vabbè questi accessori che sono uguali poi abbiamo guardate un bellissimo collare zebrato vediamo come vi sta oh ci c'è aspetta vabbè andiamo avanti poi abbiamo colori nero il fiocco rosa guardate che bello bene quello blu e poi abbiamo questo berretto bianco qua no sembra proprio una palla di neve e infine di nuovo gli occhiali rossi allora visto che è una femmina vediamo a me non gli sta male guardate ai latini a me non gli sta male guardate ai latini possiamo mettere direi i fiocchi perfetto e ovviamente ho questo vediamo no direi questo perfetto perfetto e per ora basta ciao ciao poi guardatela che carina vabbè poi acquisti me cazzo allora di nuovo abbiamo questi biscotti che io direi che ne prendo sì dai 20 sì dai oh ci c'ho poi ovviamente la spazzola a pelo corto poi gli oggetti che non ho ovviamente l'osso di colore qui sono uguali il bumerang giallo guardate che oh mio dio che bello il bumerang verde verde speranza si dai prendiamolo ovviamente l'esca rosa guardate che bello oh mio dio questa versione è magnifica è già quasi 10 minuti di video e basta questo video durerà poco perché è proprio l'inizio ma prima di sistemare i comandi volevo farvi vedere quelli che sa fare fiona 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 oh non mi sente fiona 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 oh mi ha sentito mi senti o sei sorda fiona 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 seduta pa 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 due e questi sono i comandi che sa fare è uguale a te piace qua sotto quindi lei è Fiona cos'altro? anzi il diario dai ora che è vestita gli facciamo anche una foto spot post, street post eccoci di ritorno dopo una piccola pausa perché diciamo la memoria era piena quindi ho dovuto trasportarsi nel mio computer erano arrivati al diario avevo messo questa foto e ora mi manca intanto 0 incontro e 42 punti e come messaggio mettiamo che messaggio potremmo mai mettere ah si con il punto esclamativo e anche la faccina mettiamo anche la faccina new puppy intanto dopo lo cambierò bene ah no aspettate aspettate manca il regalo tanto lo so che non incontrerò nessuno che regalo potremmo mettere ovviamente la pallina chiara cian sono un amante del giocone ok allora visto che se no dura poco la seconda parte c'è la continuazione diciamo che andiamo a fare una gara facciamo anzi no la prova di inseguimento scusate scusatemi ah si quello che aveva incontrato il chihuahua ancora tanto tempo fa ma tanto vabbè dai Fiona portami bene vediamo se riesco perché è una piccola no no e dai che soffrino no 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 qua va talza come vedete non 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 sempre poi è anche difficile senza una sola mano e vi faccio vedere anche si dai la prima passeggiata la sua prima passeggiata intanto salviamo oggi ci c'è oh sennò perdiamo tutti i dati e no si quanto è difficile che faccio oh rosso i piccioni la prima passeggiata i piccoli i piccoli e i piccoli i piccoli i piccoli aspettate portachiavi di cuoio classico speriamo bene che in futuro ora fare i bisogni la cosa che odio è che si strofinano sull'erba e che si sporcano e io vorrei tenere pulita per almeno due giorni non deve finire però, chiaro? oh dai, mangia, è qui dai eh, la cacchina mi sembrava non c'è un piccione dai, andiamo dai, andiamo eccoci a casa siete a casa Fiona sembra aver gradito la pasta dietro non è del tutto soddisfatta beh mi sembra logica bene bene, visto che sono già 7 minuti non è che lo dividerò in due parti ma semplicemente le unisco vi saluto vi saluto dai, saluta saluta Fiona si dai vabbè Fiona vi saluta comunque vero Fiona ciao 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 ciao